Siamo appena arrivati all'evento Mi Faccio in Tre, in compagnia di Anna Iole e Elena. Ciao! Ciao! Allora, chi siete? Di che cosa si occupa la vostra realtà? Siamo un gruppo informale del Municipio Tre, ci chiamiamo Mi Faccio in Tre perché proprio facciamo parte di Mi, vuol dire Milano, ma vuol dire anche Mi, io mi occupo di qualcosa. E ci piace, il nostro motto è Riduco, Riuso e Riciclo, che sono i nostri must. E quindi abbiamo partecipato volentieri a questa Civil Week perché ci dà la possibilità di far conoscere le realtà del nostro quartiere che si occupano proprio di, tra virgolette, non rifiuti, di quello che è un oggetto che non è un rifiuto. Quindi può essere una risorsa, in questo caso un gioco e domani invece lo ripariamo e impariamo insieme ad aggiustarlo con dei riporatori volontari. È la prima volta che hai partecipato alla Civil Week? Sì, avevamo fatto un bando, ahimè, prima del lockdown, proprio volevamo fare un caffè a giusto a tutto e quindi siamo stati ben felici quest'anno di riproporre, addirittura raddoppiando gli eventi e ripartendo così alla grande. Abbiamo trovato questi amici che hanno questi valori comuni con noi, proprio dell'economia circolare, di far sì che tutto quello che gli altri potrebbero considerare un rifiuto in realtà diventa una nuova risorsa. E quindi abbiamo fatto questi due eventi e oggi stiamo ripartendo in presenza con gli amici di Smunting. Quindi spiegateci meglio l'evento, in che cosa consiste l'evento di oggi? Dobbiamo chiamare il nostro Filippo. Ciao Filippo, spiegherai tu l'evento di oggi, in che cosa consiste? Noi siamo lo Smunting, cioè siamo un'associazione nata da pochissimo, da ottobre dell'anno scorso. Noi cerchiamo di sensibilizzare i bambini, perché il futuro è nelle mani loro, al riciclo e riutilizzo. Come? Facendo smontare le cose e facendo vedere come sono fatte dentro, la fatica che si fa a fare queste cose. In questo modo forse decideranno di non cambiare il computer subito, perché non è l'ultimo modello, ma tenerlo ancora un po'. Cosa facciamo? Questo è il nostro laboratorio, facciamo smontare di tutto, la maggior parte delle cose che vengono smontate purtroppo sono computer, stampanti, videoregistratori, perché è il rifiuto che ci arriva in maniera più grande. E poi con questo noi cerchiamo di indirizzarlo sui canali di recupero, quindi il riciclo del metallo, il riciclo delle ventole. Purtroppo alla plastica non riusciamo a fare nulla, ma poco alla volta cerchiamo di insegnare che riciclare è buono. Inoltre abbiamo notato in questi ultimi periodi che le cose che ci vengono donate non sono cose da buttare a fine vita, sono semplicemente non l'ultimo modello o non il penultimo modello. E quindi noi raccogliamo sempre queste cose, le rimettiamo a posto, le doniamo ad altre associazioni, come diciamo noi, quelle un po' più sgarruppate che non possono permettersi neanche un PC. E quindi noi le doniamo a titolo gratuito per aiutarle, o se no, se sono altri PC ancora più belli, proviamo a venderli, perché noi abbiamo anche un impegno sociale tramite una nostra onlus, di cui facciamo parte, e cerchiamo di aiutare una scuola in Bangladesh di 60 bambini. Quindi con tutto il ricavato aiutiamo e cerchiamo, anzi siamo sicuri, di cambiare la vita a quei 60 bambini. Mi sembra una cosa bellissima, perché comunque oggi siamo sempre alla ricerca di avere l'ultimo modello di qualcosa, e quindi molto spesso gettiamo via senza pensare PC, smartphone, stampanti. Ma non senza pensare, molto probabilmente non si sa neanche che queste cose possono avere una vita, altri due step di vita, noi con i nostri associati cosa facciamo? Quando ci portano le cose diciamo, guarda, con poco possiamo dare, ad esempio al computer, ancora un anno di vita. Vuoi provare? E ultimamente questa cosa piace, nel senso non buttare via subito una cosa e poterla utilizzare, così com'è ancora per un annetto, piace molto. E quindi cerchiamo nuovi adepti e nuovi soci che possano venire ad aiutarci e a spargere questa cosa. Volevo solo dire che cos'è lo smonting, è un acronimo inventato tantissimo tempo fa da mamma e papà smonting, che sono gli inventori, io sono solo colui che ha spinto a far diventare questa cosa un'associazione. e vuole dire smontare insieme giocando, perché attraverso il gioco, sia per i bambini che per gli adulti, si imparano le cose buone e quindi... Voi avete, cioè fate anche altre iniziative durante l'anno, siete operativi tutto l'anno o soltanto magari per la Civil Week o avete proprio eventi a cui i bambini possono partecipare o non so, andate in scuole o... non so. Allora, noi facciamo altri eventi, soprattutto con i municipi, in cui servono quelle associazioni per... come posso dire... raccontare un altro modo di utilizzare le cose. e siamo sempre presenti e a disposizione. Poi, in alcuni casi, andiamo anche nelle scuole a fare dei percorsi sull'ecologia, sul riciclo, sul riuso. Noi spingiamo tantissimo sul riuso, perché si parla tantissimo di riciclo, ma poco di riuso. Ci sono molte cose, soprattutto noi vediamo pc, stampanti, che veramente possono essere ancora utilizzate per un anno, due, senza farle andare in discarica direttamente. Mi sembra anche strano che comunque magari anche grandi aziende qui a Milano, sicuramente ce ne sono tantissime, che magari sono costrette a buttare pc perché non sanno di questa cosa e sarebbe interessante anche informare loro di questo, perché magari l'azienda risparmia o comunque è sempre una buona azione. Allora, ultimamente, grazie all'introduzione del Corporate Manager Responsibility, molte aziende stanno cercando, quando fanno, ad esempio, il downsizing, di fare qualcosa di buono mentre loro diventano più piccoli. Noi stiamo intercettando un po' queste esigenze e cerchiamo di aiutarli a creare un budget sulle cose che noi possiamo vendere o che possiamo dare a delle associazioni, in modo poi da utilizzare quel budget per qualcosa di sociale. Noi abbiamo dei soci che hanno delle onlus e quindi proponiamo dei percorsi con loro o semplicemente queste aziende che ricevono il budget da noi possono devolverlo alle loro società. Mi sembrava bello, non sapevo di questa cosa. È nata nell'ultimo periodo perché dopo la pandemia c'è stato un cambio radicale del modo di lavorare e molte aziende hanno visto che grandissimi spazi non servono più. Quindi stanno facendo il downsizing e fortunatamente, grazie alla nostra rete, siamo venuti a conoscenza e ci hanno chiesto, ma voi potete fare qualcosa? Ci siamo formati come associazione proprio per questo, perché prima eravamo persone e non potevano donarci queste cose. Come associazione possono donarci queste cose? Mi parlavi prima dell'associazione della scuola in Bangladesh, giusto? Sì. Che fornite comunque PC aiutate e date sostegno. Com'è nata questa cosa, questa collaborazione? È nata perché una delle nostre socie è un presidente della Rishilpi e in una cena promozionale ci ha raccontato quanto può costare gestire una scuola di 60 bambini, professori, manutenzione, vestiti e libri. 2.500 euro l'anno. Quindi noi abbiamo pensato, ragazzi, con 2.500 euro l'anno, noi cambiamo la vita a quei ragazzi che non appartengono a nessuna casta, perché la Rishilpi è indirizzata proprio ai fuori casta. Quindi giocando con noi usiamo il rifiuto, loro gestiscono il rifiuto della società, l'abbiamo messo assieme questa cosa, abbiamo detto, noi con il nostro rifiuto, cioè i PC che ci vengono dati per essere smontati e buttati, noi ci guadagniamo poco, 10 euro, 15 euro così, facciamo un budget che arriverà, speriamo, a 2.500 euro all'anno e lo doniamo per far cambiare la vita a quei ragazzi. Mi sembra veramente bellissimo e vi fa onore a questa cosa. Ci proviamo, siamo solo a metà strada e vediamo se riusciamo a portare avanti questo progetto, perché il nostro impegno non è portarlo avanti per un anno, ma un ciclo completo di 5 anni almeno. Ti ringrazio. Volete mostrarci qualcosa, qualche smontaggio? Ok, questo è uno dei rifiuti che di solito ci donano, un computer vecchio fisso. Noi lo facciamo smontare, aprendolo e soprattutto chiedendo ai bambini di fare domande. Cioè il bello del bambino è che a un certo punto, togliendo questo cavo, guarda e dice ma scusa che cos'è questo? Non lo conosco, è un hard disk, ma cosa serve a salvare i dati? E quindi noi gli insegniamo le cose che ci sono dentro in un pc. La cosa bella che a fine laboratorio, li prendiamo un po' in giro, diciamo, lo sapete che avete studiato? E loro con questi occhi stile gatto con gli stivali dicono no. Ho detto sì, sai come funziona questo, hai imparato a usare i guanti, hai imparato a usare i cacciaviti, sai che devi cambiare cacciaviti in funzione delle viti, questo è imparare, questo è studiare. E allora sorridono e si mettono tutti a ridere. Un'altra cosa è questo, che ci teniamo tantissimo, è il nostro metro di misura. Cioè questa misura la fatica di tutti i soci smonting che hanno smontato qualcosa. Quindi noi raccogliamo tutte le viti e lo usiamo come metro. Questo è il risultato di una serie di laboratori che abbiamo fatto la scorsa settimana. Bello, molto bello, grazie.